consiglio ben ritrovati sulle frequenze della nostra radio ben ritrovati anche a tutti quanti gli amici che stanno seguendo in diretta la trasmissione siamo alla 17esima puntata del ciclo di catechesi de maria non quansatis oggi la volta scorsa abbiamo terminato il primo ciclo di catechesi di questa trasmissione dedicata ai dogmi mariani oggi apriamo un nuovo capitolo di approfondimento mariano e apriamo appunto il capitolo dedicato a un'altra dimensione fondamentale della vita della missione della madonna che è appunto la nostra la sua cooperazione alla redenzione non solo alla redenzione ma anche la sua mediazione universale di grazia ed anche il suo essere l'avvocata dell'umanità si tratta come capirete insomma di tematiche che la madonna stessa tra l'altro ha sollecitato nel corso di una apparizione della fine dello scorso secolo in olanda d'amsterdam apparizione che è stata riconosciuta nei primi anni degli anni 2000 dal vescovo locale quindi di cui si può tranquillamente parlare e ma che porta quindi l'attenzione abbiamo visto i quattro dogmi mariani a un possibile futuro ecco non è attualmente a quanto ne sappia io in cantiere prossimo però sapete che le sorprese di dio sono infinite e possibile nuovo intervento dogmatico cioè che vada un pochino a completare ulteriormente la comprensione della figura e della missione della madonna a favore del genere umano il tema è chiaramente molto molto delicato ma come vedremo e lo vedremo in una prima parte diciamo oggi dobbiamo prima focalizzare alcuni concetti chiavi soprattutto riguardo a cristo e poi possiamo cominciare a parlare della partecipazione ad alcune funzioni di cristo da parte della della madonna però vedremo come il l'ottavo capitolo della lumen gentium che è appunto quello dedicato alla madonna nella costituzione dogmatica sulla chiesa parla esplicitamente di tutte queste cose e quindi ha già posto i fondamenti dottrinali per che che possano essere ulteriormente approfonditi e ci sono ci sono delle delle espressioni che ci manca soltanto come dire proprio la l'ultima l'ultima formalizzazione ma insomma è abbastanza è abbastanza chiaro è abbastanza evidente e una piccola notazione anche anche riguardo a questo punto no cioè sappiamo che per chi non lo insomma in sede di concilio vaticano secondo ci fu una come dire una alternativa c'era chi voleva fare una costituzione dedicata apposta alla madonna e chi invece preferiva trattarla congiuntamente con la chiesa dietro questo tipo di di arriva tra l'altro si fronteggiavano due opposte visioni ecclesiologiche tenete presente vi dico subito sempre la mia posizione che la posizione a mio avviso cattolica cioè dietro le opposte fazioni ecco generalmente c'è un equivoco di fondo perché queste fazioni non non devono opporsi ma la madonna va compresa sotto due punti come dire di vista distinti ma complementari non possono essere unilateralizzati quali erano questi opposti e partiti c'erano quelli come dire fautori della cosiddetta mariologia cristo tipica parolaccia che significa parolona più che parolaccia significa che e alcuni teologi volgevano lo sguardo sulla unicità ed eccezionalità dell'esperienza della madonna che è comprensibile soltanto in relazione al suo stretto rapporto con cristo in particolare alla causa alla ragione d'essere tutti quanti i suoi cosiddetti privilegi che sono dipendenti dal fatto che lei era stata da sempre da dio pensata per essere la madre del suo figlio questo aspetto è in dubbio è in dubbio d'accordo perché è evidente che la madonna è una creatura una creatura ma del tutto eccezionale del tutto singolare dirà la lumen gentium non ce ne sta nessun'altra creatura che possa rifare quello che ha fatto lei non c'è d'accordo perché gesù cristo si è incarnato una volta sola quindi c'è una donna che è la sua madre basta quindi cioè io dico no ci vuole tanto a capirlo ora qual è il pericolo se uno però si sofferma solo sulla dimensione cristo tipica della mariologia evidente che avrà una visione straordinaria della madonna è molto elevata d'accordo perché soffermerà l'attenzione su tutta l'eccezionalità dei suoi privilegi però si corre il rischio di fare così di maria santissima una creatura in parte disincarnata ma in parte anche estranea a quella che è la vicenda della chiesa ora sappiamo benissimo papo francesco da da quest'anno ha reso memoria obbligatoria benedetto sia il signore la memoria di maria madre della chiesa no quindi già che la madonna abbia una funzione materna nei confronti della chiesa è molto importante ma come diceva il buon sant'ambrogio la madonna non ha solo una funzione ma materna della chiesa ma la madonna è anche il tipo di ciò che la chiesa è anche il modello della chiesa e e c'è tutta una tradizione anche su questo dobbiamo concepire la madonna al di fuori della chiesa o all'interno della chiesa ed ecco la seconda corrente la corrente della mariologia ecclesiotipica cioè guardare la madonna non solo in relazione a cristo ma anche in relazione alla chiesa come tipo come modello come esemplare perfetto vedremo le espressioni di cosa lumen gentium ma anche come membro vedremo che lumen gentium dirà membro sovreminente del tutto singolare chiaro che la madonna non la possiamo ridurre ad essere una tra le tante no quindi non si può fare un'operazione di riduzione troppo umana della madonna però quest'altro tipo di operazione c'è e teniamo anche presente una cosa fondamentale su questo insomma penso che su alcune cose dobbiamo capirci bene noi non dobbiamo immaginare la vita terrena della madonna in maniera fantasiosa è cioè chi incontrava la madonna incontrava una persona apparentemente normalissima come tutte le altre cioè ci sono tanto una serie di descrizioni sono state fatte anche nel corso della storia la madonna durante la vita terrena a quanto sembra maggiormente accreditabile non ha fatto nessun miracolo salvo che ha sollecitato il miracolo di gesù alla nozze di cana quindi non dobbiamo immaginarsi come una creatura che che cammina non lo so a un metro da da terra che chiunque la vede la vede circomantata di di gloria cioè come la persona di gesù cristo sulla terra pur essendo il redentore gesù appariva una persona normalissima è solo che lui dava anche dei segni della sua divinità nel senso che faceva i miracoli scacciava i demoni eccetera eccetera la madonna nemmeno questo d'accordo in questo detto la migliore tradizione maio logica è sempre stata attenta quindi e la considerazione anche dei privilegi diciamo così della madonna delle sue funzioni del tutto singolare non deve mai farci commettere l'errore come come se non avesse vissuto una vera vita terrena come la nostra assolutamente quindi bisogna fare attenzione e allora ai due opposti estremi non si può fare della della madonna ripeto un essere disincarnato che fa una vita tra le nuvole o questa sempre fuori fuori di sé non calata nei problemi con dall'altro non si può fare della madonna come dire una persona una come tutte le altre d'accordo esattamente in tutte e per tutto guarda tutte le altre perché non lo è stata questo è abbastanza evidente quindi come ci sono queste due ecclesiologie queste due mariologie che si sono fronteggiate ma mi avviso non c'è niente di cui fronteggiarsi ma vanno tenute insieme era lumen gentium ha cercato di fare questa operazione di composizione di queste due realtà così bisogna tenere presente che noi abbiamo una creatura del tutto eccezionale che però ha fatto una vita terrena apparentemente ordinaria d'accordo quindi tutto straordinario dentro l'ordinario tutto eccezionale in una come dire manifestazione esteriore apparentemente normalissima cioè una madonna la tradizione ci dice che da bambina è stata al tempio di gerusalemme ma al tempio di gerusalemme ci andavano tante bambine non c'era soltanto una madonna non è che la madonna andrà al tempio di gerusalemme perché lei c'aveva come dire le super super desideri mistici che hanno aperto soltanto per lei no ci andavano in tante ci andavano poi a 12 13 anni uscivano come uscita la madonna perché questa è una volta andata nel senso da san giuseppe perché per gli ebrei non esisteva la vita consacrata e quindi una volta che la donna diventava pubere arrivava alla pubertà quindi detti in termini un po più espliciti capace di avere figli come tutte le donne di israele doveva fare la volontà di dio perché questo si pensava allora che era dare dei figli al suo popolo e quindi andare in sposa e mettere al mondo dei figli educare dalle valli questa era la sorta che stava facendo la madonna il fatto poi che il matrimonio con san giuseppe sia stato del tutto eccezionale è diviso dal fatto che la funzione della madonna quindi ma è stato del tutto eccezionale non pensiamolo capito è stato tutto eccezionale nel senso che maria e giuseppe si sono amati immensamente come marito come come sposo e come sposa semplicemente astenendosi dagli atti coniugali basta ma per il resto la loro vita è stata una vera vita sponsale una vera vita di collaborazione e di amore profondissimo di attenzione nei confronti del figlio hanno condiviso le gioie le penne della vita sono usciti in egitto sono sono andati in esilo in egitto sono tornati a nazareth la madonna lavorava in casa san giuseppe lavorava all'officina quindi capite no cioè la grandezza straordinaria proprio dietro la della madonna era questa capacità che lei si chiudeva nella sua stanzetta nella stanzetta dell'annunciazione questo possiamo e dobbiamo assolutamente immaginarlo entrava in preghiera profondissima cioè la preghiera della madonna come potrebbe essere stata nessuno lo può immaginare no che è lo che succedeva dopo di che terminato quel momento particolare che certamente la madonna viveva io non ho nessun dubbio usciva dall'estasi usciva dai suoi viaggi nella santissima trinità e tornava tranquillamente a fare il pane a mettersi dietro il fuso e a fidare l'ago a fare i vestiti a gesù a tattingerli un accordo facciamo davanti in casa a quei tempi tutte quante le mansioni comuni di una donna di casa io penso che avere anche questa visione corretta della madonna ci aiuta anche a ben concepire un itinerario di vera santità perché un itinerario di vera santità non ci porta a fare una vita strana d'accordo o fuori dei canoni ma ci porta a santificare perfettamente tutte le circostanze ordinarie della vita al tempo stesso qui la madonna ce lo dice in forma straordinaria ed eccezionale non esiste possibilità di santificazione delle circostanze ordinarie della vita senza un profondissimo rapporto con dio cioè che la madonna di vera certamente in maniera straordinaria ma che tutti quanti noi in maniera possibile proporzionata al nostro stato di vita e come dire al tempo che abbiamo a disposizione ma senza vita interiore senza vita di preghiera non è possibile non è possibile santificarsi lì dove stai capito vuoi vivere un matrimonio santo dio deve stare al primo posto nel tuo cuore non devi cioè certo che non puoi pregare se tu sei sposato tanto quanto prega un certosino d'accordo o quanto prega un prete ma devi pregare devi trovare un modo devi trovare degli spazi a volte è molto difficile perché stanno ho fatto tre quattro figli come faccio cioè ho capito d'accordo nelle circostanze concrete però un rapporto profondo intimo con dio ce lo dobbiamo avere altrimenti il mio ordinario non diventerà straordinario ma diventerà un disastro insomma nel senso che non riesco a a trovare insomma quella gioia quella pace quella calma quella serenità con cui i santi e fanno grandi cose lavorano moltissimo per la gloria di dio e fanno cose veramente sotto certi aspetti straordinari ma senza come dire senza riflettori però compiendo perfettamente la volontà di dio quindi ecco diciamo questo questo passaggio fondamentale questo a mio avviso corretto inquadramento della funzione della figura di maria santissima è un passaggio assolutamente necessario è perché sia gesù che la madonna teniamo presenti gesù è il nostro redentore vedremo perché si può dire ma quando la chiesa non dirà che la madonna non è corredentrice questa teniamo presente che l'argomento che si tratta adesso da un punto di vista teologico è argomento di libera interpretazione quindi abbiamo fatti togmi mariani no come ho detto prima che fosse definita l'immacolata concezione quindi su questo mi raccomando non facciamo e ho detto in una puntata non facciamo i faziosi d'accordo quindi non facciamo che io mi arrogo una cosa che il magistero della chiesa avrebbe detto quando ancora non l'ha detta né in un senso né in un altro quindi il percorso che adesso affrontiamo è percorso dove a un chiamiamo teologo non voglio chiamare un teologo insomma sono un prete diciamo comunque a un teologo o a un pensatore o a un ecclesiastico o a un laico è data libertà di parole d'accordo quindi nel rispetto di chi la pensa diversamente io ci credo che la madonna io ti dico subito corredentrice mediatrice l'avvocato universale ci credo e allo stato attuale senza nessun dubbio quando poi il papa dovesse dire questa è una stupidaggine io sono il primo a rimangiarmi tutto quello che dico a togliere poi se mando queste categorie su youtube le tolgo d'accordo perché se roma locuta causa finita d'accordo ma fino a quando non arriverà quel giorno io a queste cose non solo che ci credo ma le sostengo diciamo così quindi le le fomento le difendo se vogliamo usare questo 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 termine perché a mio avviso sono sono verissime ma questo non toglie ripeto il fatto quando pensiamo a gesù e maria non pensiamo di soltanto perché loro sono i capostipiti dell'umanità nuova sono il nuovo adamo e la nuova eva non sono soltanto il redentore la corredentrice il mediatore la mediatrice e colui che intercede presso il padre e l'avvocata dell'umanità che ci attiene tutte quante le grazie queste sono certamente funzioni superiori che poi tra l'altro come vedremo tutte queste funzioni sono tutte partecipate a ciascun membro della chiesa perché io come dice san paolo così cominciamo questa è proprio un'introduzione sto mettendo tanta di quella carne al fuoco dopo dobbiamo cucinarla pezzetto per pezzetto san paolo dice e io io completo nella mia carne quello che manca al sacrificio di cristo fuori del suo corpo che la chiesa quindi cosa dice sta dicendo che lui è un piccolo corredentore perché le sofferenze mie e tue di te che stai ascoltando se sono offerte al signore guarda che concorrono in modo diverso come vedremo dalle sofferenze di cristo della madonna molto diverso e molto inferiore ma comunque in qualche modo concorrono pure loro alla grande opera della redenzione quindi vedremo che capire bene questi concetti ci farà anche capire bene la nostra posizione sì gesù cristo è l'unico mediatore vedremo la madonna ha il ruolo di mediatrice dipendente subordinato da quello di cristo ma scusate ma che un prete non è un mediatore d'accordo la chiesa che campa di mediazione d'accordo cioè ma un papà non è un mediatore un papà una mamma che si sposino santamente cristianamente giusto perché poi bisogna vedere no vanno a chiedere il baptesimo al figlio e dicono che loro si impegnano ad educarlo nella fede come con l'esempio con la parola d'accordo e io come faccio il prete io faccio il prete con il buon esempio se spera che lo dia e con la predicazione come faccio a parlare alle persone di nostro signore gesù cristo e non è questa una funzione di mediazione perché il rapporto con dio che deve essere anche personale interrelazionale nella preghiera è però sempre anche strutturalmente mediato cioè la chiesa esiste per questo quindi quale scandalo come dire ad ammettere che la madonna è mediatrice quando tutti quanti noi nel nostro piccolo anche qui in era molto inferiore molto più piccola ma siamo mediatori poi gesù cristo è vivo dice san paolo a intercedere per noi alla destra del padre e vogliamo pensare che la madonna che glielo chiediamo nell'ave maria santa maria madre di dio prega per noi peccatori non sta intercedendo per noi quindi non è la nostra avvocata non per ora la nostra causa verso la divina misericordia come 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 suo figlio invocando e invocando perdono invocando misericordia invocando grazie nonostante che non ce le meritiamo ma scusate ma che non lo facciamo pure noi ma il papa non ci ha detto nel mese d'ottobre e lo ricordo ad abbundanziam ha chiesto a tutti i fedeli pregare la madonna col rosario perché la madonna voglia scendere insieme a san michele a proteggere difendere la chiesa dagli assalti del demonio che la sta massacrando la sta torturando e dei suoi nemici non lo stiamo facendo se io faccio questo rosario e dico la preghiera a san michele arcangelo non tifona sotto un presidium non sto facendo un'opera di intercessione non sto ottenendo con la mia povera preghiera d'accordo anche con la mia povera preghiera alla chiesa le grazie da parte del signore perché possa essere forte nel combattere il suo combattimento contro i suoi avversari certamente sì capite quindi queste tre funzioni certamente che vedremo se non avesse operato cristo è la fine d'accordo manco tutto quello che ha fatto la madonna servirebbe a niente perché tutto quello che ha fatto la madonna che è più grande di quello che facciamo noi ma più piccolo di quello che fa cristo trae tutta la sua efficacia da quello che ha fatto cristo quindi che capite c'è già 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 da questa premissa si capisce subito che non è assolutamente ma chi dice scampi liberi negato o minimizzato il primato di cristo perché senza la sua azione è tutto inutile ancora tutto tutto inutile tutto inutile però non ci deve stupire più di tanto perché questo è una ulteriore componente della vita cristiana o però tornare a quello che stavo dicendo queste funzioni che sono funzioni salvitiche quindi del tutto particolari svolte da loro nei nostri confronti non tolgono il fatto che è oltre che questo gesù e maria sono nuova dama nuova eva cioè il capo stipite e la capo stipite della nuova creazione cioè sono i nostri esempi di vita per essere i nostri esempi di vita anche per comprendere la vita che hanno fatto no ma perché gesù cristo è stato 30 anni a nazareth e ha lavorato per un sacco di tempo per esempio cioè la madonna ha vissuto nella sua singolare esperienza la madonna può essere esperienza può essere modello di vita per le sole di clausura perché è stata in monastero dai 3 ai 12 13 anni può essere esempio per le spose perché perché è stata sposa di san giuseppe per le mamme per le vedove perché san giuseppe è morto qualche anno prima che gesù cominciasse la vita pubblica per coloro che cooperano l'azione apostolica della chiesa perché perché dopo l'ascensione si viveva con san giovanni ma certamente aiutò gli apostolini la fate tutte capite tutte quante quindi chiunque qualunque donna in qualunque stato di vita si trova può trovare in maria santissima il modello è la stessa cosa vale per gesù cristo d'accordo se uno pensa bene misteri della vita di gesù cristo chiunque può trovare fonte di ispirazione dalla vita di cristo dai misteri della della sua vita persino i ragazzini no i bambini che devono obbedire genitori devono fare i bravi ragazzi e devono studiare che non devono fare capricci da chi traggono esempio da 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 gesù bambino no da nessun altro che lui quindi teniamo presente tutte quante queste cose perché ripeto l'impianto di questi nostri incontri che certamente anche in parte dottrinale diciamo così perché adesso qui inizieremo a parlare di cose abbastanza grosse però deve essere anche sempre a sfondo profondamente catechetico cioè nel senso che devono essere degli aiuti perché la nostra vita cristiana di fede possa crescere possa implementarsi d'accordo perché la ragione d'essere anche di una radio come radio buon consiglio insomma è una ragione d'essere apostolica quindi l'apostolato serve ad incrementare a farci crescere ecco nella fede non si tratta di fare accademia o serie le lezioni per quanto riguarda la teologia quindi adesso dobbiamo aprire questi tre punti questo diciamo un po' un'introduzione generale adesso noi dovremo prima vedere tre fronti di attenzione che sono appunto la redenzione la mediazione e la intercessione è chiaro che prima di parlarne in riferimento alla madonna dobbiamo ben comprenderli in riferimento a nostro signore Gesù Cristo allora il nostro signor Gesù Cristo è il redentore dell'umanità cosa significa redenzione cosa significa essere redentore dobbiamo averlo molto chiaro questo qui allora chi è stata messa ieri oggi è lunedì 22 ottobre del 2018 ieri era la ventinovesima domenica del tempo ordinario dell'anno liturgico b quindi questo vale per chi dovesse sentire sta catechesi chissà quando le letture della messa di ieri c'era la famosa pagina del vangelo dove san giovanni e san giacomo di zebedeo insomma gli prendono i cinque minuti di follia vanno a chiedere a Gesù che volevano sedere una la destra una la sinistra Gesù chiaramente gli fa capire che non è aria insomma di fare questa domanda poi nasce una discussione e poi Gesù ne tra occasione per fare un ammaestramento maestramento che non è soltanto il servizio d'accordo quindi il porsi all'ultimo posto sì a un certo punto Gesù dice voi dovete prendere sempre dal figlio dell'uomo che è venuto per servire e attenzione dare la sua vita in riscatto per tutti in questa espressione dare la vita in riscatto sottolineo riscatto per tutti è contenuto il concetto teologico di redenzione in greco apoliutrosis termine proprio tecnico allora riscatto allora noi per capire riscatto dobbiamo esattamente immaginarci in una prima battuta poi evidentemente questa immagine va ben compresa un sequestro di persone oppure cosa assai più vicina al tempo specialmente in cui Gesù è venuto il riscatto di uno schiavo allora c'è un sequestro di persona l'anonima sarda la visce una persona che dice due miliardi mi devi pagare per il riscatto di questo questo sta prigioniero è non esce da questa situazione se qualcuno non paga il riscatto simile cosa accadeva nel diritto romano ma anche ebraico per quanto riguarda la schiavitù se tu eri schiavo tu non potevi liberarti da questa situazione c'è uno schiavo era schiavo a vita non c'è nessuna possibilità che tu esci dalla condizione di schiavitù a meno che non trovi un benefattore che cosa fa che compra la tua schiavitù che ti riscatta c'era proprio un istituto giuridico nel diritto romano che era riscatto degli schiavi e se c'è qualcuno che ti riscatta tra l'altro san paolo in alcuni passaggi delle sue lettere proprio utilizza esattamente questi schemi giuridici e proprio proprio anche il termine tecnico di liberto d'accordo perché lo schiavo riscattato si chiamava tecnicamente liberto cioè aveva riacquisito la libertà grazie a questo benefattore che gli aveva comprata pagandola e aveva semplicemente nei confronti di questo benefattore degli obblighi di gratitudine basta vedendo bene questa immagine questa sia questa si avvicina molto insomma a a quello che ha fatto gesù allora qual è la situazione come stava messa la razza umana perché c'era bisogno di un redentore cosa è successo al genere umano d'accordo cosa è successo è successa una cosa molto semplice che il capostipide della razza umana disobbedendo a dio spinto dal tentatore ha causato una degradazione della razza umana ha perso tutto quanto il patrimonio che dio gli dava riducendo malamente la propria condizione e incappando in una soggezione ad una serie di brutte cose da cui con le proprie mani non si può liberare vediamo le cose da cui gesù ci ha liberato ma la cui liberazione è iniziata e non è ancora compiuta e che ci fanno capire come noi non siamo affatto tra virgolette liberi noi stiamo andando tutti quanti incontro a sorella morte chiaro questa catechese è cominciata 29 minuti fa vi do la brutta notizia che ci abbiamo 20 minuti 29 minuti in meno da stare sul pianeta terra d'accordo punto non c'è niente da fare dalla quale nulla uomo può scampare qualcuno è capace vediamo faccio una telefonata alle suore oppure di riscattarsi dalla soggezione alla morte vediamo capace qualcuno io credo che la storia conosca solo uno che è stato capace di riscattare anzitutto se stesso dalla morte per poi attraverso questo riscatto promettere il nostro riscatto dalla morte come si chiama questo qualcuno si chiama Gesù di Nazareth che è l'unico che è stato ucciso è stato morto è stato messo in un sepolcro ed è tornato vivo dal cimitero è tornato da solo non perché è stato il santo di turno qualcuno a dirgli esci fuori no no è tornato da solo chiaro ma noi non siamo ancora riscattati dalla morte attenzione lui ci ha riscattato dalla morte e riscatto dalla morte ci sarà non è ancora perché quello che Gesù ha fatto la redenzione in parte è già efficace in parte è rimandato la piena efficacia ma io sono riscattato dalla morte perché nell'ultimo giorno io risorgerò non è una favoletta questa qui è questa stessa carne che io adesso porto un po meglio si spera e che un giorno sarà consegnata alla terra l'anima dalla mia carne uscirà riprenderà vita dotata appunto perché il Signore ha riscattato la umana natura dalla soggettazione alla morte quindi dotata della dono dell'immortalità e dell'incorruttibilità al momento del dono di Gesù Cristo nella gloria e della risurrezione dei morti quindi quindi capite no io adesso io essere umano tu essere umano sei un ostaggio perché tu adesso sei schiavo della morte capite il senso se Gesù non fosse risorto non ci sarebbe nessuna speranza è di uscire dalla soggezione alla morte prima quindi capite che tu dici ha pagato il prezzo di riscatto ma da che cosa devo essere riscattato cominciamo dalle cose proprio terra terra queste sono quelle più visibili perché poi la cosa più importante che è quella per la quale il riscatto è già in atto non è così terra terra anzi può dimostrare d'accordo è una cosa un po più spirituale anche se produce molti molti danni questa è la prima la seconda c'è qualcuno che conosce un vaccino universale adesso sapete che stanno si sono scannati anche in italia tra i novax e i provax adesso stanno testo queste cose nuove capito che bisogna fare i vaccini che sennò qua vengono un sacco di malattie per carità è io non voglio fare politica quindi facessero insomma quello che ritengono più opportuno ma c'è qualcuno che si è inventato per caso un vaccino universale che ci riscatti da ogni possibilità di malattia sempre c'è questo qualcuno deve fare sempre una telefonatina alle suore oppure mi fa una mail o mi direbbe qualche primato a a gesù cristo insomma però tutti quanti sarebbero interessati a questa cosa io non credo che ci siano ogni tanto ci si inventa qualche vaccino nuovo ogni tanto qualche brutto male si riesce a trovare una soluzione ma noi sappiamo ci sono tanti brutti mali che flagellano la razza umana e che purtroppo sono killer micidiali nel senso che ti portano dritto al cimitero a volte di prima di massacrano ti e ti riducono insomma sofferenze molto molto gravi anche in questo in questa vita bene c'è qualcuno che conosce siamo ostaggi o non siamo ostaggi può la mia volontà dire bene mi è venuto un tumore adesso io faccio un bell'atto di volontà e il tumore lo sbatto all'inferno e ci liberiamo no non si può fare quindi siamo ostaggi c'è bisogno di qualcuno che ci liberi da questo che ci riscatti da questa condizione anche questo è una cosa da cui gesù ci ha riscattati ma la data del riscatto è stata posticipata d'accordo il prezzo è già stato versato ma l'attivazione d'accordo di questa di questa bellissima liberazione è procrastinata perché anche questo sarà un accessorio del dopo risurrezione perché il corpo non è soltanto immortale incorruttibile ma anche impassibile quindi non soggetto alle malattie e alle sofferenze di nessun tipo facciamo un'altra che è ancora abbastanza evidente d'accordo e che riguarda il nostro pancino quando si parla del pancino siamo sempre tutti abbastanza sensibili no noi abbiamo qualche altra schiavitù o no abbiamo qualche altro prezzo e come dire se abbiamo qualche altro carcere di cui siamo ostaggi sapete qual è qualcuno direbbe ma che bello questo penso che bello entro certi limiti d'accordo vedremo subito entro quali limiti noi dobbiamo mangiare dobbiamo ogni giorno mangiare ma questa è una cosa bella questo non è mica una schiavitù sei proprio sicuro è una cosa bella se c'è le tasche piene dei soldi che da mangiato lo puoi comprare se lo andiamo a raccontare a qualche nostro fratellino e sorellina che vive ahimè in posti un pochino più sciagurati dei nostri e a causa dei nostri sprechi e dei nostri peccati va incontro a sorella morti dopo aver patito i morsi della fame feroci non è bello morire di fame e vedremo che un pochino un'altra cosa no certamente mangiare una cosa bella ma un conto è che io che ne so mangio come come se dovesse andare al cinema oggi mi va di farmi una mangiata via spaghetti alle vongole veraci e ringrazio il signore che mi ha dato questo bel dono insomma degli spaghetti alle vongole veraci insomma che ha creato questo piccolo ti amo per me lo ringrazio e dopodiché per un mese non ci penso per niente no cioè se io non vado al cinema non è che se muore se uno non va al cinema d'accordo non lo so da quanto tempo ha gengiato più al cinema non sono morto cioè il cinema è un piacere che se uno può se lo prende ma se non te lo prendi succede niente ma con il mangiare che può essere un piacere non è così capito non può far digiuno 40 giorni come ha fatto gesù se c'è un se c'è voglia di fare l'eroe ma 40 anni non si può fare di digiuno capite ce ne basta molto meno per passare a miglior vita quindi anche questa è una piccola faccio tutti quanti questi esempi e veniamo a a quello che non si vede e che però è stato rivelato e che è stato diciamo così la cosa fondamentale la prigionia la più grande prigionia che noi abbiamo e la più grande schiavitù che noi abbiamo è la schiavitù che si chiama del peccato e indirettamente la schiavitù di colui che ci ha spinto nei confronti di colui che ci ha spinto in adamo e ci spinge in noi al peccato chiamato dalla lettera agli ebrei il signore della morte che è il diavolo perché purtroppo quello che è stata l'esperienza del peccato dell'uomo sia di quello di adamo sia anche del nostro peccato volontario grave è semplicemente una cosa è dire a dio e a tutto l'amore che lui già per noi non mi interessa tu non mi interessi e dire amen al primo ribelle nei confronti dei doni e delle grazie dell'altissimo che è il diavolo ogni volta che l'uomo volontariamente volge le spalle a dio che lo sappia o non lo sappia che ci creda o non ci creda che lo voglia o non lo voglia si diventa amico del diavolo perché ripete esattamente ciò che lui a suo tempo fece e la famosa battaglia del cielo descritta nel capitolo 12 del libro dell'apocalisse durante la sua ribellione attenzione però quando uno passa dalla parte del nemico c'è una grossa differenza capite il signore ha dei figli il diavolo ha degli schiami cosa significa questa questa cosa che facciamo esperienza tutti i giorni cerco sempre di aiutare per quanto possibile anche nelle nelle cose di fede con le esperienze di vita allora tutte le cose di cui ho parlato prima la chiesa insegna che sono conseguenze del peccato quindi significa che fatto il peccato innesco dei meccanismi di non ritorno d'accordo che che a cui la mia volontà è costretta contro senza che ci possa fare niente quindi è innescato la dinamica il meccanismo della schiavitù c'è una situazione irreversibile da cui non mi posso liberare da da solo domanda una persona può liberarsi in 4 e 4 8 da dio dal suo gioco dalla sua legge succede qualcosa cioè a me a te mi ci tiene qualcuno dentro la chiesa mi obbliga qualcuno a fare il prete mi ci tiene qualcuno a fare il bravo ragazzo a cercare di fare del bene se lo voglio liberamente con l'aiuto di dio è possibile ma se io volessi fare un peccato mortale tra due minuti c'è qualcuno che me lo impedisce cioè dio mi tiene vicino a lui come se fosse uno schiavo quindi mi impedisce di ribellarmi a lui assolutamente no perché la legge che c'è tra dio e creatura è una legge filiale un figlio non è uno schiavo è certamente figlio ma è libero libero anche di ribellarsi senza pagare nessun tipo di di tributo a lui il tributo te lo fa pagare la vita poi d'accordo ecco facciamo il caso inverso io sono un grande peccatore e facciamo esempi molto molto concreti è così ecco un bestemmiatore bestemmiatore incallito può dall'oggi al domani tranquillamente dire non bestemmio più un po difficile d'accordo un tossico dipendente può dall'oggi al domani dire non mi faccio più un po difficile un alcolizzato può dall'oggi al domani dire niente un lussurioso ma di quelli fatti bene e quindi non lussurioso ogni tanto cade in qualche piccolo peccato in più piccolo no qualche peccato in puro sporadico ma un lussurioso quindi uno che è immerso nei vizi impuri può dall'oggi al domani salza la mattina no quindi già questo va a capire che c'è una condizione differente tra una persona che vive nell'amicizia con dio che se ne può liberare in quel momento senza nessuna fatica è una persona che vive queste sono cose oggettive che dal punto di vista oggettivo e sono inemicizie con dio quindi comportamenti esattamente all'opposto della della sua legge da cui non ci si può liberare così facilmente quindi cosa significa questo significa che c'è una dinamica che la dinamica connessa al peccato che in genera un processo di schiavitù cioè tu liberamente ti metti nei guai ma non ne esci liberamente c'è bisogno di qualcuno che ti venga a prendere ti dia una mano per tirarti fuori questa è stata la la redenzione anche perché il diavolo che non ha potere sulla nostra libera volontà però una volta che tu perdi l'amicizia con dio e la somiglianza con lui e la grazia sua e rimani da solo lui ti mette gli artigli addosso eppure essendo comunque non un burattino nelle sue mani nel senso che conservi la sua libertà la tua libertà ma liberarti dalle sue mani diventa quasi impossibile e riacquistare l'amicizia con dio diventa impossibile perché se lui non te la restituisce avendoci tu sputato sopra tu non puoi fare nulla di adeguato per poterla riconquistare perché tu hai rinunciato ad una cosa divina essendo un essere umano e una cosa divina non la può meritare nessun atto umano fosse pure il più santo che esista in tutto il mondo quindi questa è la situazione diciamo così ontologica ed esistenziale in cui viene a trovarsi l'uomo prima che sia compiuta la retenzione ora la puntata è finita vediamo la prossima volta e riprendiamo da qui cominceremo a vedere come in questa situazione dio ha pensato alla nostra retenzione e come ha operato questa redenzione in cristo sperando di essere stato chiaro appuntamento a tutti alla prossima settimana con i miei saluti e la mia benedizione ave maria